Credo che la direzione che i social hanno inaugurato in maniera prepotente di questa quasi rinascita della scrittura sia una cosa che non potrà che continuare così, credo. Poi è sempre difficile fare delle previsioni per il futuro ovviamente, già con i messaggini dei cellulari, già allora abbiamo smesso di usare semplicemente il telefono e abbiamo iniziato a scrivere, con i social, con i forum poi prima e con i social poi abbiamo ripreso un po' di pratica con la scrittura. È vero che questo non ha sempre degli esiti positivi perché comunque molti non vogliono comunque imparare, continuano a scrivere male. Però è anche vero, come dicevo prima, che questo ha riabituato le persone a un contatto più stretto con il materiale della comunicazione. Perché io penso che anche se i video, le foto e le immagini sono probabilmente i contenuti che suscitano più engagement online, i testi non moriranno mai perché hanno qualcosa di superiore a questi altri media che li rende più memorizzabili, credo, e più solidi. Grazie a tutti.